15 giorni fa sono venuti a derubarmi, dentro casa non sono entrati, comunque hanno tolto la caldaia da vicino al muro e se la sono presa, non è tanto per la caldaia, ma la cosa più grave è che mi hanno attirato i cani in un giardino che sta dietro la casa, chiusi nel cancelletto, con il cancelletto una cagna è stata malmenata, un'altra ha mangiato delle cose che gli hanno dato tanto da portargli a visionare le corde vocali, infatti questo cane da 15 giorni non abbaia più e il veterinario ha presupposto che non abbaierà mai più, quindi non si tratta di… cioè i veri animali sono loro, i veri animali sono i ladri a questo punto. In virtù di una serie di accadimenti per quanto riguarda la sicurezza della zona, lei pensa che il comune sia provvedendo oppure la zona è ancora abbandonata a se stessa? La zona è abbandonata, di sicurezza non c'è proprio niente, l'unica battuglia che si vede sulla Litorania sono i carabinieri di Ponte Cagnani, per il resto non si vede nessuno, si è abbandonati, poi c'è una macchina di Ponte Cagnani che mi hanno spiegato, c'è una macchina che fa tutto il territorio, il territorio sappiamo che è grandissimo, faiano e picciola e tutti e non c'è proprio sicurezza di niente, siamo poi lasciati dagli accristi comunitari abbandonati che stanno tutti in mano a loro dalla Litorania e siamo noi che siamo stranieri nella nostra terra. Sì ma tanta gente si sta cercando di organizzare solo, noi sentiamo che è quotidiana la cosa, una sera senti che sono andati a rubare quello, una sera quell'altro, una sera sono rubati la nafta, una sera mezzi agricoli e quant'altro, ma arrivano nelle case, io stessa di giorno, ci vuole un coraggio con noi giù a salire sopra. Che cosa si riscontra quotidianamente tra la cittadinanza? Il problema urgente di questo momento è la criminalità, la cattiva sicurezza che abbiamo nelle nostre case, ci dobbiamo chiudere dentro la sera appena fa un po' buio, ma anche di giorno, è uno stato di angoscia che stiamo vivendo e questo è un grosso problema che stiamo vivendo attualmente. I zigre, non questi qua, quelli che stanno là, stanno nell'acqua, i bambini sono pieni di titoli, a cui vanno a scuola pure, queste sono cose che i servizi sociali, dove stanno? Dove stanno? Come vanno a presto i bambini? Come vivono? Signore che stanno, a vestiti domiciliari? Dove stanno? Con quale coraggio a vestiti domiciliari? In una barracca di rame, con l'acqua a terra, l'acqua, non c'è un bagno, non c'è una fontana. Quindi non hanno come lavarsi? In un terreno, si, si, vengono dopo, dovete andare a vedere, dove sta la tela, lì indica a salire sotto.